Allora, vorrei precisare che sono vestita uguale, sono in posizione uguale, ma devo vedere se mettere questa clip, quest'altra clip, dipende quanto dura, insieme all'altra oppure in un altro blog. Perché volevo dirvi solo una cosa, e credo che questo, ma quasi quasi, ho intenzione di fare un blog la sera, solo la sera, praticamente farlo iniziare tipo adesso, che sono le 9 se non mi sbaglio, farlo iniziare adesso alle 9, sperando di farlo durare anche poco. Ma volevo dirvi solo delle cose, un po' che mi stanno... vabbè, io potrei anche far finta di niente e dire non me ne frega, faccio come diciamo fate voi. Però questa cosa, certe cose a me non mi piacciono, per cui lo voglio dire. Perché su YouTube, diciamoci la verità, tutte le persone che ormai fanno video su YouTube, dai 14, ma credo anche 13 anni, credo da 12 a 13 anni, partiamo da 12 a 13 anni fino 30, 40 anni, anche di più credo 50 anni, non lo so. Ormai tutte le persone, tutti i ragazzi, donne, così, fanno video su YouTube, perché hanno scoperto che chi fa video su YouTube viene pagato da YouTube. Per cui diciamoci questo, che facendo video su YouTube, YouTube paga. Per cui è normale che c'è così tanta gente che registra video su YouTube, chi fa video, eccetera, eccetera, perché sapendo che YouTube ci paga, giustamente facciamo video. No? Per cui non prendiamoci, diciamo, per i fondelli, per non dire altre cose. Perché sento molta gente che dice, eh ma io faccio video perché mi piace fare video e giustamente li faccio, ma non perché YouTube mi paga, ma perché mi piace fare video. Allora sì, ovviamente se devi fare questo lavoro, cioè, questo secondo me è un lavoro. Ok, non è che YouTube, in poche parole, anzi voglio abbassare la voce perché non voglio chiedersi. Perché rido? Perché? Non lo so, vabbè, sono, in certe volte sono pazza. Comunque, no vabbè, lo faccio per ridere, per far ridere un po'. Comunque, stavo dicendo, allora, io faccio video da YouTube da ormai sei anni, perché mi segue da un bel po', sa che io faccio tanti video, cioè, tanti video, faccio video su YouTube, per cui già so come funziona, come come.. Babà babà, babà, chao. ciao allora, mamma, giuro che poi non ce la faccio e in poche parole se davvero ti piace fare i video lo fai, non è che sei obbligato a fare i video perché YouTube ti paga diciamoci anche che per far sì che tu hai uno stipendio come lavorano le persone in realtà e non online, diciamo che dipende dagli iscritti dalle visualizzazioni che hai, ad esempio per farvi capire voi dovete avere più di 100.000 iscritti e più di 50.000 visualizzazioni o 50.000 visualizzazioni o 100.000 visualizzazioni non lo so di preciso perché io non sono arrivata su quella cifra e ovviamente non ho 100.000 iscritti per cui non posso dirvelo però io so che molte YouTube che seguo hanno detto questa cosa qua su quanto guadagnano per cui per chi guadagna per chi ha 5.000 iscritti e anche di più per loro è un lavoro perché guadagnano lo stesso stipendio che prende uno che lavora capito per cui che poi vabbè mi sono informata anche su tutte queste cose però per quelli che hanno il canale più piccolo tipo come il mio io sono una ancora che deve crescere che già siamo a mille non so quanto però io devo crescere ho pochissime visualizzazioni a prescindere per cui non è che prendo chissà quanto cioè quello che prendo YouTube non mi mantiene in poche parole per cui diciamo che è un lavoro YouTube ma per chi ha tanti iscritti tante visualizzazioni io seguivo moltissime persone quando credo 3-4 anni fa seguivo moltissime persone e ad esempio una ragazza aveva 12.000 iscritti questa ragazza qui cosa ha fatto a prescindere che non è più su YouTube si è ha cancellato il suo canale ma non per il fatto che non ce la faceva mettere video perché era impegnata eccetera ma per il fatto che non prendeva tanto allora lei pensava che superando tantissimi iscritti lei prendeva una cifra esagerata diciamo su YouTube e allora giustamente faceva solo questa cosa qua poi dopo ho capito che non guadagnava così tanto perché ci vuole tanto impegno per arrivare a una certa cifra cioè una certa cifra in senso iscritte e visualizzazioni che giustamente lei ha deciso diciamo di non stare sul canale cioè di di cancellarlo e basta però io mi domando se tu cioè ti sei impegnata hai fatto tantissimi video perché diciamoci la verità per chi fa video veramente come si deve e montare video come si deve e fare video come si deve ad esempio come faccio io cioè per quelli che non lo sanno montare registrare ci vuole almeno un giorno per farlo cioè tu devi avere dipende ovviamente che video fai se fai che ne so un video vlog ci metti un giorno per registrare e un altro giorno che sono due giorni per montarlo per cui già per montare dipende quanto dura il video ci metti un bel po' per cui ci vuole il tempo e devi lasciare anche un po' il tempo a youtube se vuoi farlo non sei obbligato a fare video per cui prima di tutto c'è gente che molte persone ad esempio come i ragazzini di 14 anni che ovviamente hanno il consenso dei genitori molte persone lo fanno perché sanno che guadagnano allora fanno i video cioè diciamoci questo per cui è così in questa cosa che volevo dirvi per certi pensano che è un hobby e certi un lavoro secondo me può essere tutte e due cioè sono tutte e due sia hobby che lavoro ma non potete dire che non è un lavoro per voi perché se no cosa vi impegnate a fare cioè è quello che voglio capire perché vi impegnate a registrare un video a montarlo se non vi interessa diciamo non per voi non è come un lavoro e quello cioè non lo so non c'ho tante quelle cose che dico cioè ad esempio c'è gente che fa video per due tre minuti lo monta eccetera alla cazzo e ha tante visualizzazioni io parlo tutte tutti eh non parlo una persona o che ne so parlo tutti in generale ci sono ad esempio dei ragazzini 14-15 anni che fanno video alla cavolo e hanno tantissime visualizzazioni non lo so o devi essere divertente o far ridere allora forse hai più visualizzazioni cioè non lo so come funziona bene bene con le visualizzazioni e dipende dalle persone però cioè vabbè a parte questa questa cosa qua volevo precisare anche questo ho notato che in questi mesi da quando è arrivato agosto sono spariti tutti e tutti in senso i miei iscritti cioè quelli che io sono iscritta al canale di loro e loro sono iscritti al mio canale cioè queste persone qui sono quasi tutte sparite io avevo più di 30-40 persone che seguivo e già 30-40 persone è già anche troppo perché non puoi seguire così tante cioè già arrivare a mille persone da seguire io non so come fate dovete spiegarmelo sotto in questo video come fate a vedere quasi tutti i loro video lasciarvi lasciare un commento sotto il loro video e ricambiare perché io non riesco io per vedere un video al canale e scrivere un commento già solo per 5 canali ci metto un giorno perché uno dipende quanto d'ora il video e due dipende quanti canali hai ma già mille sono già troppi per cui non so la gente come fa e non so che voi se seguite me non so come fate per cui iscrittemelo sotto dovrei un po' capire questa cosa qua perché io seguo 50 persone ma la maggior parte sono quelle persone più famose cioè in senso le youtuber che sono da 10 anni su youtube che hanno praticamente 30 anni per farvi capire per cui io seguo quelle persone lì che ormai sono da tanti anni sul canale e da quando ovviamente io sono da 6 anni sul canale è da tanto che youtube è cambiato cioè youtube è molto cambiato dal 2016 ad esempio fino adesso è cambiato molto prima c'erano pochissime ma pochissime persone che facevano video su youtube da quando è successa questa cosa che hanno scoperto tutti che youtube paga basta si sono aperti tutti tutti si sono aperti il canale stanno facendo tutti questi video e basta cioè questo è quello che sta succedendo è molto cambiato youtube diciamo però io volevo precisare questo perché io mi dilungo ma poi dopo mi perdo il filo e non so più che caso va bene le parolacce perché se no poi mi segnalano il video comunque volevo dire a queste persone che loro seguono me e io seguo loro in poche parole volevo dire perché cioè ok può essere che tu sei impegnato non sei non sei diciamo non fai come me che lavori attore e non hai tempo per stare lì a vedere tutti i video eccetera no quello ci può stare però io mi domando se sai che io passo quasi quasi io passo sempre se non è oggi ma è domani o dopo domani no tu hai messo un video che ne so ieri e io ieri non potevo potevo che ne so domani dopo domani io passo sempre lo guardo lo stesso il video anche se anche se il video è passato da una settimana che non l'ho visto lo guardo cioè capito recupero tutti i video tutti tutti no dipende dal canale ripeto dipende dal canale se mi piacciono veramente li guardo tutti per cui non riesco a capire perché a volte persone che mi seguono si sono iscritte al mio canale hanno lasciato un commento che ho scritto ricambio ti iscrivi al mio e giustamente restiamo attivi no perché sono loro che hanno scritto a me non io loro scusate ma il mio cane quando si mette a bagliare poi è un po' complicato in poche parole spero che non lo sentite volevo capire perché io quando passo sempre nei vostri canali a commentare sempre un vostro video e non me ne perdo neanche uno perché sinceramente io faccio fatica a recuperare tanti video ad esempio c'è gente che in un giorno mette cinque video quattro video tre video e io mi domando è tanto un giorno mettere tre quattro video secondo me perché poi io non riesco a stare dietro tutti per cui ripeto io ho pochissimi canali che seguo di persone come me praticamente per cui c'è stato un calo di visualizzazione commenti nel mio canale e parlo di d'agosto parlo in senso agli iscritti come ho già detto prima che io sono iscritta che abbiamo ricambiato non alle persone che guardano questo video non sono iscritte al mio canale ma guardano il video per cui io parlo solo alle persone che seguo e che loro seguono me in poche parole non capisco perché queste persone vedono che io passo quasi sempre quasi sempre perché dipende da dal giorno se sono impegnata se lavoro dipende perché non è che solo voi lavorate otto ore allora io non ho mai niente da fare ma sì te non hai niente da fare non lavori otto ore allora giustamente stai sempre su youtube e puoi vedere tutti i video cioè no non è così perché ci sono dei momenti che lavoro praticamente anche un giorno e lavoro che ne so ho delle faccende da fare in casa esco vado fuori non è che sto sempre su youtube o sto attaccata su youtube per cui ho anch'io una vita privata non sto sempre su youtube però per coerenza e se hai preso questo impegno che tu ti sei cioè sei venuto nel mio canale e hai scritto ricambi e rimaniamo attivi vuol dire che tu devi impegnarti cioè ovviamente non è che sei obbligato non è che uno io dico la gente è obbligato a venire su questi miei video no quello no però se tu vedi che io sono più presente nel tuo canale guardo sempre i tuoi video cerchere cioè vorrei che anche io non so dico te perché mi stai guardando ma ce ne sono tante persone che guardano però dico se vedi che io sono più presente nel tuo canale che commento sempre eccetera cerca di essere anche tu anche voi presenti sul mio canale perché può starci che non puoi vedere tutti i miei video ma cioè anche lì io non è che metto cinque video a settimana io ne metto solo tre massimo tre certe volte anche due ne metto di video a settimana cioè un giorno riuscite a trovare il tempo di guardare il video un giorno perché può essere anche una settimana in là può essere anche un mese ma lo guardate cioè è quello che voglio dire non è che esce il mio video dovete guardarlo subito cioè quello no però cioè secondo me è giusto che se io passo sempre nel tuo canale e commento sempre voglio che anche tu lo fai io cerco di trovare un minimo di cinque minuti di tempo di guardare il tuo video e di commentarti e voglio che ovviamente lo cioè lo facciamo tutte e due non che io passo perché io conosco cioè conosco seguo un bel po' di persone e da tanto che sono iscritta al loro canale io passo sempre ma vedo che ogni tanto quando vogliono loro passano per un commentino e a me questa cosa non mi piace perché scusa se io mi impegno e perdo anche un giorno solo per guardare e recuperare quasi tutti i video cioè voglio che almeno lo fai anche tu cioè quello che voglio dire perché forse certe persone a parte che io non mi so spiegare bene comunque volevo dire questo che siccome non mi sono spiegata bene non dico che dovete essere per forza obbligati o che io sono per forza obbligata a passare nel loro canale no ci mancherebbe però se tu sei iscritta al mio canale è perché il mio canale ti piace perché ti piacciono i miei video non perché tu vuoi le mie iscrizioni o vuoi un mio commento perché se tu vuoi solo questo no che la maggior parte lo fa c'è molta gente che ho notato che è iscritta al mio canale cosa fa molta molta gente furba mette il video che ne so un video a settimana se mette il video a settimana prende mi lascia un commentino sotto il mio video per poi dopo passare no e poi dopo basta non si fa più sentire più vedere per almeno due o tre settimane fino a quando non metto il suo video e no questa cosa qua cioè non è giusta perché io quando non carico il mio video sul mio canale non è che dico ah che cavolo non ho pubblicato niente per due o tre giorni allora non passo sugli altri canali a vedere il video cioè secondo me non funziona così e tanto vale iscrivervi a un canale se poi siete obbligati a lasciare un commento sotto nel video e a scrivermi perché io non sono obbligata cioè se a me non piace il canale io non ti seguo e l'ho fatto con molte persone che tutte le volte nel mio canale leggo i commenti like brava iscriviti al mio canale ma io mi domando ma perché devo iscrivermi al tuo canale se tu vuoi solo la mia iscrizione solo un commento cioè questa cosa non riesco a capirla cioè dovete scrivermelo sotto nei commenti se voi capite questa cosa perché io seguo le persone che davvero mi piacciono ci sono molte persone che io seguo volentieri perché mi piace il loro canale perché mi piace quello che fanno anche il carattere mi piace tutto di queste persone che poi vorrei fare i nomi di queste persone che io seguo davvero ma credo che quelle persone che mi guardano no sanno che io passo sempre nel loro canale scrivo sempre i commenti anche se non è il giorno in cui hanno diciamo pubblicato il video però il giorno dopo io passo tre giorni io passo nel canale a vedere il video quando ovviamente riesco per cui io vorrei che se io faccio le cose nel vostro canale cioè preferisco che le fatte anche voi perché sennò tanto vale che io passo perché sennò non sono obbligata sinceramente cioè io ripeto io se sono sempre attiva su quel canale perché veramente mi piace il canale poi ovviamente se quel canale vuole passare e vedere tutti i miei video e commentare come faccio io sono molto felice perché vuol dire che mi dà la stessa adesso non mi vengono le parole ma sono felice che lei ricambia quello che ho fatto io capito però ovviamente non sei obbligata ma le persone che si iscrivono al mio canale per solo avere un commento nel loro canale sinceramente questa cosa a me non piace certi vabbè la pensano diversamente perché dicono ma chi se ne frega cioè tu fai i video l'importante è che loro passano ti lasciano un like un commento un like bellissimo video anche se non te l'hanno guardato tutto intero ma te l'hanno guardato cioè neanche guardato ti hanno aperto il video like un secondo dei video like commentino poi spengo il video tutti lo sanno fare grazie ma così a prescindere che non guadagni niente a prescindere e cioè e poi non è una cosa bella perché se davvero ci tieni cioè ci tieni se davvero ti piace quella persona che fa i video c'è sei iscritto e basta commenti se vuoi oppure no non che tu prendi sparisci chi si è visto si è visto cioè non lo so io però vorrei che queste persone specialmente che io sono iscritta al loro canale che sono abbastanza attive come io sono con loro infatti ci sono due tre persone se non mi sbaglio che loro fanno come faccio io passano sempre il mio canale non perdono neanche un video e lasciano sempre un commentino la stessa cosa faccio io con loro cioè ci ricambiamo vicina così funziona non che io entro nel tuo canale commento tutti i video che pubblichi sotto sempre vedi il mio commento che io sono tanto attiva del tuo canale e tu te ne freghi dici vabbè se ne frega tanto è importante che mi lascia che ho guardato il video e ho commentato e no allora così cioè perché cioè praticamente secondo me le persone se davvero guardano fino in fondo il video come lo faccio io vuol dire che ti impegni a vedere un video perché ti piace no e lascia un commento questo è non perché apri il video cinque minuti lo spegni che senso ha allora non guardarlo il video anche quelli che mettono non mi piace al video ad esempio adesso non so se questa persona guarda fino in fondo il mio video o prende il mio video lo apre per due minuti mette non mi piace e poi chiuso che bello messo non mi piace al video cioè non lo so non riesco a capire che bello è mettere aprire il video velocemente mettere non mi piace via sono contentissima gli ho messo non mi piace a questo video così almeno lei si arrabbia ma a me non me ne frega anzi io non so se lo sapete ma quelli che mettono non mi piace al vostro video voi ci guadagnate di più per chi non mi piace guadagni molto di più che i like cioè non so se lo sapete ma io ho guardato e in più me l'hanno detto qualche youtuber che seguo se queste persone mettono non mi piace il tuo video tu ci guadagni di più che i like che ti mettono ovviamente non è che sto dicendo che adesso tutti mettono non mi piace questo video no cioè bello no io quando devo parlare non mi so mai spiegare mai mai spiegare questo sempre madonna chissà quanto è durato sto video mamma mia che bello e niente vabbè direi che questo video questo sarà un vlog chiacchierino di sera adesso meglio che faccio dei video che se meno non durano l'infinito oltre perché 20 minuti poi sarà molto di più a prescindere da questo fatemi sapere se davvero vi piacciono i video un po' parlati sì durano un bel po' perché mi allungo perché sono una che parla parla tipo come le galline e le ocche tutti i suoni cioè vabbè sto sclerando comunque fatemi sapere se vi piacciono dei video tipo come questi parlati anche ovviamente che non durano 30 minuti solo perché dovevo parlare ma sui 20 così va bene almeno credo aspettamelo a sapere sotto perché secondo me fare sempre i soliti video secondo me io mi annoierei ma non a registrare anche a vederli video per cui io nel mio canale faccio di tutto faccio tanti video tanti diversi e per non annoiare le persone perché se no se mi metterei qua a parlare tutti i giorni è normale che ma vai che gare cioè vabbè sto sto sclerando non so perché e di sicuro saranno le 10 da un'ora quasi che parlo detto questo chiudo spero che davvero mi sono spiegata ma non credo perché quando parlo io mi spiego mi spiego non spiego niente cioè proprio faccio un miscuglio parlo di tutto di più un miscuglio dentro e poi dopo dico cavolo non ho detto la cosa bella la cosa è sempre così cioè è meglio che solo che io voglio voglio dire queste cose per coerenza in poche parole specialmente per quelli lì per quelli quegli scritti e basta non per altro comunque d'oggi in poi non mi iscrivo più a nessuno diciamo almeno che mi piace il canale mi iscrivo ma se non mi piace il canale o sono obbligata a iscrivermi perché tu devi avere cioè tu devi darmi la tua iscrizione al mio canale solo perché devo passare al tuo video no mi dispiace ma il cambio cambio e il cambio proprio il cambio e niente ho deciso così per cui chi passa veramente sul mio canale guarda i miei video non dico tutti quelli che pubblico ma sono tre video a settimana per cui ce la fate benissimo vederli tutte e tre per cui è impossibile che non avete un giorno per recuperare i video per cui cioè dai un giorno lo trovate come io trovo un giorno essere che ne so a casa sono nel letto non so cosa fare in televisione non c'è niente ma mi guardo youtube mi diverto a guardare i video degli altri non stare in televisione cioè dai io io la penso così voi la pensate come volete commenti qua saranno cattivissimi saranno tantissimi non mi piace ma ripeto non mi piace ma danno in più in poche parole per dire che quelli che non hanno dicono che io non ho ragione va bene scrivetemi tutte le cose tanto verrete bloccati quello è sicuro commenti negativi verranno bloccati se volete darmi un consiglio ok ma consigli giusti non consigli eh ma quello che dici non è così bla 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 perché lo ho già fatto un video degli iscritti e di mi piace certi mi hanno dato ragione certi mi hanno diciamo detto no non hai ragione e poi se la sono presa con me bla 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 ma io la penso così voi potete pensarla come volete io ho detto la mia punto e detto detto e detto detto che ho parlato troppo e sono 17 minuti e non so anche l'altra clip quanto dura io chiudo questo video per modo di dire e vediamo se mettere l'altra parte del vlog oppure niente vi saluto qua se mai ci vediamo nella clip nell'altra clip non lo so scusate è così però io volevo sfogarmi volevo dire la mia ho detto un'altra cosa perché non è uguale a quei video che avevo fatto due tre mesi fa è molto diverso questo cambia in poche parole questo vabbè detto questo non so cosa sto più dicendo sto vabbè sto scusando sto me chissà quanto tempo ci vuole per montare un video solo perché io parlo ecco ciao 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 Grazie a tutti.